Ragazzi volete vincere skin o altri oggetti? Dallo shop di Fortnite tutto gratuitamente da parte mia Basta seguire tutti questi semplici passaggi che vi metto qui alla mia destra Iscriviti e attiva la campanellina o commenta con il tuo ID su Fortnite qua sotto nei commenti In modo che poi potrò estrarre alcuni di voi che avranno fatto i passaggi Lascia like e condividi il video con tutti i tuoi amici Guarda tutto il video e infine seguimi su Instagram cecchinato-tv E a raggiungimento ragazzi di 200 like sotto questo video dai commenti Valla appunto estrarò delle persone che avranno eseguito tutti questi passaggi E infine gli regalerò un oggetto su Fortnite Detto questo non c'entra assolutamente niente con i regali Quindi non è un passaggio obbligatorio a fare Però qualora voleste potete supportarmi nello shop con il mio codice cecchinato-nato Detto questo vi lascio al video Buona continuazione Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Io sono cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Fortnite News Prima di incominciare con il video vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale con la campanellina Se non l'avete ancora fatto lasciate un bel like e condividete questo video con i vostri amici E se ancora non l'avete fatto mi raccomando seguitemi anche su Instagram cecchinato-tv Detto questo ragazzi oggi video abbastanza breve ma molto molto interessante Infatti ragazzi potremmo ottenere il bundle Psycho Quello che uscì mi sembra nel precedente capitolo interamente gratuito Prima però ragazzi volevo parlarvi per l'appunto del abbonamento PlayStation Plus Infatti per tutti i possessori di questo abbonamento sappiate che è appena uscito il bundle nuovo di questa stagione Che vede per l'appunto questa skin alla mia destra insieme a un backpack Quindi se avete l'abbonamento PlayStation Plus potete riscattarlo gratuitamente Ora ragazzi passiamo al bundle Psycho perché lo potremmo ottenere tutti in maniera gratuita Innanzitutto vi metto qua il bundle alla mia destra Si parla proprio di questo bundle qui e come possiamo vedere contiene una skin, un backpack e in più ragazzi un piccone Come possiamo leggere ragazzi il 26 dicembre mi raccomando ricordatevi questa data Borderlands 3 sarà disponibile gratuitamente nel negozio di Epic Games Quindi prima cosa ragazzi ovviamente dovrete recarvi nel lancial di Epic Games E nella sezione delle ricerche dei videogiochi digitate per l'appunto Borderlands 3 Una volta che l'avete trovato lo potrete scaricare esattamente dal 26 dicembre gratuitamente Una volta scaricato ragazzi il gioco è fatto Il bundle intero Psycho sarà nel vostro armadietto e soprattutto gratuitamente Per chi non lo sapesse infatti ragazzi questo bundle comunque era un'esclusiva solo per chi acquistava Borderlands 3 Che se non sbaglio era sempre nell'Epic Games Store però se non erro costava sui 70 bar 80 euro anche E per l'appunto solo chi acquistava il videogioco poteva ottenere l'intero bundle Adesso non è più così ragazzi dal 26 dicembre potrete tutti ottenere questo bundle gratuitamente Che ripeto contiene ben una skin epica, un piccone e ovviamente il relativo backpack Lascio ragazzi anche questo elenco qui che ci spiega benissimo come lo potremmo ottenere Basterà il giorno 26 dicembre entrare su Epic Games Store Scaricare ovviamente il gioco Borderlands 3 E una volta fatto ragazzi lo aprite magari e potete subito richiuderlo E tranquillamente ragazzi ci verrà dato nell'armadietto l'intero bundle Poi ovviamente dovete assicurarvi che il vostro account sia collegato alla piattaforma di Epic Games Se no non vi verrà dato l'intero bundle E poi ragazzi loggare ovviamente su Fortnite e lì avremo l'intero bundle gratuitamente E a voi ragazzi piace questo bundle psycho? Fatemelo mi raccomando sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate Se siete contenti di questo arrivo gratuitamente del bundle psycho E mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video su Fortnite News Bella